buongiorno a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con investire con gabriele bellelli oggi parliamo di oro parliamo di tutte quelle che sono le soluzioni di investimento che possono essere efficienti per investire con loro prima di iniziare vi chiedo un riscontro audio video quindi vi chiedo se vedete correttamente il monitor che sto presentando e se sentite in modo nitido la mia voce nel mentre tolgo la webcam perché sono in vacanza uso la connessione del cellulare per cui è una connessione non sempre troppo robusta ok vedo che i riscontri sono tutti positivi per cui direi che possiamo partire immediatamente perché il tempo è sempre tirano dicevo questo un nuovo appuntamento della serie investire con gabriele bellelli oggi parleremo di oro parleremo di tutte quelle che sono le soluzioni di investimento per fare trading e per fare investing sul sull'oro siete tantissimi non riuscirò probabilmente a rispondere a tutte le domande per cui qualora dovessero esserci dubbi in merito a quello che vado a illustrare ovviamente oltre alla chat potete interagire in tempo reale vi ricordo che il punto di riferimento del mio gruppo facebook andate su facebook cercate investite con le belle belle li chiedete l'iscrizione è un gruppo chiuso ma è gratuito e siete i benvenuti quello oggi è il modo più diretto per interagire con me soprattutto è il luogo ideale per richiedere tutte le informazioni che magari oggi non sono riuscito a rispondere alle domande in più vi ricordo il mio gruppo il mio canale youtube e anche qui eh Gabriele Bellelli lo trovate su youtube dove troverete ovviamente la registrazione di questo webinar ok allora partiamo immediatamente con il primo concetto parliamo del dell'oro che cos'è l'oro allora l'oro è una materia prima che si caratterizza per la sua d'utilità perché può essere utilizzata in ambito industriale ma anche in ambito finanziario o perché no nell'industria del piacere pensiamo alla gioielleria quindi è una materia prima che fondamentalmente può essere utilizzata in molteplici ambiti oggi ovviamente noi ci eh soffermeremo sull'ambito finanziario ma non è l'unico ambito di applicazione del dell'oro da un punto di vista operativo quindi entriamo nell'ambito finanziario all'interno di un portafoglio l'oro riveste ruolo di asset class no quindi al pari di che cosa della liquidità delle obbligazioni delle azioni e anche del mercato eventualmente immobiliare se lo vogliamo considerare quindi in quest'ottica rappresenta di fatto una valida soluzione per andare a diversificare il portafoglio detto in altri termini l'oro è all'interno del portafoglio una soluzione efficiente per andare a diversificare il portafoglio nel dettaglio migliorando che cosa le performance in termini di eh rapporto rischio rendimento qui vi presento due slide per illustrare questo concetto di come possa migliorare le performance in termini di rapporto rischio rendimento la prima slide riguarda l'analisi della correlazione qui troviamo le cinque asset class che vi ho citato prima la liquidità qui rappresentata dall'etf che investe nell'obbligazionario titoli di stato americani con scadenza uno tre anni ho fatto questi test sul mercato americano perché qui abbiamo una serie storica molto più ampia da analizzare quindi abbiamo una significatività statistica maggiore quindi abbiamo la liquidità dicevo rappresentata dall'obbligazionario uno tre anni titoli di stato abbiamo l'obbligazionario rappresentato dai titoli di stato americani con scadenza lunga superiore ai vent'anni poi abbiamo l'azionario rappresentato dall'SMP cinquecento poi abbiamo l'oro e poi abbiamo l'immobiliare quindi un etf che rappresenta le azioni attive nel settore dell'immobiliare e abbiamo analizzato la correlazione tra questi eh asset che cosa possiamo notare possiamo notare vedete che la correlazione massima cioè il valore più elevato che l'oro ha è nei confronti di shy shy non è altro che vedete il ticker della liquidità quindi fondamentalmente delle la la maggiore correlazione positiva essendo pure comunque un grado molto basso perché uno zero venticinque quando la correlazione positiva e uno è un livello estremamente contenuto è comunque collegata alla eh almeno alla liquidità un filo meno abbiamo vedete con l'obbligazionario con scadenza lunga non abbiamo correlazione vedete invece con eh il mercato ehm azionario è zero non è una correlazione negativa è una non correlazione la l'analisi della correlazione può andare da meno uno a uno se la correlazione ha un valore prossimo a uno abbiamo una correlazione positiva vuol dire che tutti gli asset si muovono nella stessa direzione cioè salgono scendono insieme vanno a braccetto se la correlazione è negativa ed è vicino a meno uno vuol dire che la correlazione è negativa vuol dire quindi che quando un asse sale l'altro scende e viceversa se il valore è intorno a zero abbiamo una non correlazione quindi vedete che da questo grafico troviamo che il loro ci permette di non avere una correlazione rispetto eh all'azionario avere una correlazione positiva bassa nei confronti della liquidità e del obbligazionario se noi andiamo a vedere questa seconda slide che cosa notiamo notiamo che possiamo costruire due portafogli modello chiamiamoli così costruiti con due caratteristiche la prima un portafoglio solo obbligazioni e solo azioni quindi senza l'oro all'interno del portafoglio poi possiamo costruire lo stesso portafoglio aggiungendoci l'oro quindi all'obbligazionario e all'azionario andiamo ad aggiungere l'oro l'inizio del test di partenza è lo stesso il test di fine partenza è ovviamente lo stesso cioè la finestra temporale è esattamente la stessa e la strategia di gestione è esattamente la stessa un portafoglio statico quindi viene acquistato in modo equipesato l'azionario l'obbligazionario eventualmente l'oro nel secondo portafoglio una volta all'anno questi asset vengono ribilanciati il risultato è vedete un rendimento annualizzato del sette sessantotto per cento con un drawdown massimo del venti per cento per quanto riguarda il portafoglio composto solo da obbligazioni e azioni con quello che possiamo definire un rapporto rischio rendimento cioè il rapporto tra il rendimento analizzato e il max drawdown dello 037 se invece noi effettiamo lo stesso test però con un portafoglio dove andiamo a inserire l'oro sempre in modo equipesato quindi stiamo parlando circa di un 33 per cento di valore per ciascuno di questi asset che cosa otteniamo otteniamo un rendimento analizzato del 655 quindi l'un per cento in meno rispetto al portafoglio di prima ma vedete con un drawdown del 12 per cento che quasi la metà del drawdown precedente tant'è che se noi andiamo a fare il rapporto rischio rendimento che cosa notiamo notiamo che vedete abbiamo un valore più elevato più elevato il valore di questo indice che io chiamo rrr che sta per rapporto rischio rendimento è più efficiente la strategia nella comparazione tra due strategie quindi in questo confronto tra una strategia senza oro e una strategia di portafoglio con l'oro incluso il valore maggiore è per il portafoglio diciamo così completo con anche loro quindi a un migliore rapporto di rischio rendimento questo rapporto di rischio rendimento lo troviamo poi espresso anche con altre formule ad esempio l'indice di sharp e l'indice di sortino vedete che misurano anche qui il rapporto rischio rendimento con formule diverse adesso non entriamo nel dettaglio però in entrambi i casi vedete presentano un valore più elevato quindi una maggiore efficienza del portafoglio con loro rispetto al portafoglio senza oro e anche la correlazione col mercato azionario vedete è minore nel nostro caso cioè ha migliorato la diversificazione ha diminuito il rischio di portafoglio quindi di conseguenza rapporto rischio rendimento ha avuto un beneficio quindi il concetto importante è che l'oro come asset class all'interno del portafoglio riveste un ruolo prezioso perché permette di diversifica il portafoglio di migliorare quello che il rapporto rischio rendimento del nostro portafoglio quando si parla di oro ovviamente si parla di performance no allora prevedere l'andamento del prezzo dell'oro non è assolutamente un'operazione semplice non è un'operazione semplice per nessuna soluzione di investimento quindi non è facile prevedere prezzo delle azioni degli etf delle obbligazioni eccetera l'oro forse però è un po più complicata come dinamica il motivo è che la quotazione dell'oro è determinata da numerose variabili da un mix di fattori che sono finanziari che sono politici che sono economici che sono valutari quindi tenere conto di tutte queste variabili è estremamente complicato aggiungiamo un altro aspetto che non abbiamo citato ma che secondo me è corretto citare l'oro è un asset class particolare nel senso che non paga interessi no quindi non paga le cedole come le obbligazioni non paga i dividendi come le azioni quindi chi acquista ad esempio un lingotto d'oro non è che ogni tanto incassa una pepita no semplicemente acquistando l'oro io assumo una posizione rialzista e lineare sul sottostante quindi sull'oro per cui l'unico modo che io per guadagnare è quello di sperare che il prezzo dell'oro effettivamente salga ora perché specifico questo eh cioè l'assenza di interessi pagati dall'oro perché gli italiani amano le entrate periodiche no anche se non ne hanno bisogno amano avere il il conto corrente su cui periodicamente entrano delle cedole di dividendi per cui l'oro che non paga interessi è un asset tendenzialmente poco amato generalmente dei risparmiatori eh spesso e volentieri si molti risparmiatori sono convinti che eh all'oro all'interno del portafoglio non non serva non sia da inserire sia una zavorra in realtà lo vediamo fra un attimo se noi andiamo a osservare le performance i benefici all'interno del portafoglio abbiamo già descritti in realtà dovremmo riconsiderare questo punto di vista quindi dovremmo considerare l'oro come una soluzione utile dal mio punto di vista non c'è mh dubbio che l'oro sia un asset utile ed efficiente no all'interno del portafoglio eh ecco solo l'investitore che ha realmente sottolineo realmente la necessità di ottenere un'entrata periodica perché ad esempio un mutuo le rate della macchina l'asilo del bimbo da pagare quindi deve arrivare a fine mese in modo più agevale per far fronte a questi impegni finanziari ecco allora in questo caso potrebbe non considerare l'oro all'interno del portafoglio perché ovviamente l'oro non pagando eh cedole periodiche non è efficiente per perseguire l'obiettivo che è l'entrata periodica ma in tutti e sottolineo in tutti gli altri obiettivi finanziari che sia la somma nel futuro la conservazione o eh la generica performance il generico rendimento l'oro è un asset da inserire in portafoglio ehm cerchiamo di vedere quali sono però le performance no allora questa è la performance storica eh dell'oro l'oro è una materia prima e quindi è denominata in dollari quindi il grafico che vedete rappresenta fondamentalmente l'andamento di un asset in dollari quindi è diciamo così declinato in una valuta estera eh vedete che è eh sulle montagne russe come quotazione eh alterna momenti di forte rialzo momenti di eh forte ribasso di prolungata apatia poi seguono vedete altre fasi particolarmente positive per l'oro quindi un forte rialzo anche prolungato nel tempo a cui di nuovo vedete segue poi una fase altrettanto prolungata e incisiva di ribasso delle eh delle quotazioni questo è il confronto dal 1969 quindi dagli anni settanta ad oggi tra l'oro linea arancione e l'S&P 500 quindi il principale indice azionario americano o se vogliamo a livello globale vedete che fondamentalmente eh dagli anni settanta ad oggi le performance sono molto simili eh leggermente superiore per l'azionario vedete un quattromila trecentottantacinque più ovviamente con un più quattromila centottanta per l'oro ma sono abbastanza simili su un orizzonte temporale così ampio lo si vede anche a occhio vedete che sono appaiati in molti momenti però vedete l'oro ha sovraperformato eh l'azionario questo è un altro dato tenere in considerazione se noi restringiamo l'ottica negli ultimi vent'anni ecco che abbiamo una sorpresa vedete l'oro ha sovraperformato l'azionario un più quattrocento ventotto contro un più trecento ottantasette quindi buone performance da parte di entrambi l'oro però in questo caso negli ultimi vent'anni ha fatto meglio negli ultimi vent'anni possiamo fare un confronto anche un po' più allargato e confrontare l'oro non solo con l'S&P 500 quindi l'oro è sempre la linea arancione ma abbiamo l'S&P 500 che è la linea viola abbiamo ehm come si chiama l'obbligazionario eh titoli di stato con scadenza lunga che è la linea verde e poi abbiamo la linea eh celeste blu che è eh l'immobiliare anche che vedete dal duemila e due ad oggi quindi stiamo parlando di una ventina da anni di storico anche in questo caso vedete che c'è eh una prevalenza dell'oro sugli altre asset class l'avevamo in realtà eh già vista nella slide precedente qui però la completiamo con l'andamento dell'immobiliare che ha fatto un più centoquarantuno e l'obbligazionario che ha fatto un più quaranta per cento sono tutti i valori ovviamente eh total return da questo punto di vista quindi da un punto di vista operativo l'oro eh avete visto che fornisce buone performance sul lungo periodo in alcuni casi vedete anche migliori se vogliamo rispetto a quelle di altri asset ha una bassa correlazione con le altre asset class quindi permette di diversificare il portafoglio e ehm permette vedete come andiamo a riprendere velocemente qui di migliorare l'efficienza di un portafoglio in termini di rapporto rischio rendimento a questo punto però abbiamo visto le performance che sono positive c'è un altro aspetto dell'oro che periodicamente salta fuori che quello di oro come bene rifugio no? Eh sui mercati finanziari è ampiamente diffuso il concetto che l'oro sia un bene rifugio bene rifugio eh che cosa significa? Significa che sarebbe un bene un asset class in questo caso che rappresenta e che presenta un un valore intrinseco no? Che tende a durare che tende magari anche ad aumentare di valore durante le fasi di mare mosso sul mercato azionario piuttosto che di recessione dell'economia oppure di aumento dell'inflazione. L'oro è considerato eh il bene rifugio se vogliamo per eccellenza no? In pratica nella logica collettiva quando sul mercato azionario c'è tempesta un investitore dovrebbe acquistare oro in modo tale da equilibrare il portafoglio no? Quindi inserendo l'oro un asset class che dovrebbe crescere di valore quindi andando a compensare la debolezza e il depreciamento del mercato azionario. Ora il punto centrale è il seguente è davvero l'oro un bene rifugio no? Perché questo concetto dicevo è ampiamente diffuso ed è scritto in tantissimi libri se ne parla in tanti articoli sul giornale. La domanda è è vera questa cosa cioè suffragata dai numeri oppure si tratta di una leggenda metropolitana no? Ovviamente per rispondere a questa domanda che cosa bisogna fare? Bisogna dare voce ai numeri quindi analizzare le serie storiche che sono oggettive non mentono e eh permette di capire se l'oro effettivamente è un bene rifugio o no. Innanzitutto bisogna anche chiarire bene rifugio da che cosa? Dal ribasso dell'azionario o dall'inflazione no? Perché spesso e volentieri viene considerato un bene rifugio su entrambi i lati. Cerchiamo quindi di rispondere alle due domande in modo separato. Partiamo dal concetto di oro come bene rifugio rispetto al mercato azionario quindi come diciamo così eh porto sicuro in cui destinare la parte di eh portafoglio durante la debolezza dell'azionario quindi le fasi di ribasso dell'azionario. Allora cosa dicono i numeri? Dopo vediamo alcuni esempi. E allora nelle fasi di incertezza e sottolineo incertezza o di moderato ribasso del mercato azionario è tendenzialmente vero che l'oro svolge un ruolo da bene rifugio. Quindi gli investitori tendono ad alleggerire l'azionario e a inserire in portafoglio l'oro quando c'è incertezza sul mercato o c'è una generale media debolezza quindi un moderato ribasso dell'azionario. Al contrario e qui è il dato importante durante le fasi di panico c'è quelle fasi in cui regna il famoso detto cash is king no? La liquidità è regina dove cioè gli investitori vendono ogni asset percepito come rischioso quindi vendono le azioni, vendono l'obbligazionario ai yield, vendono anche l'oro. Cioè in queste fasi gli investitori vogliono essere liquidi, vogliono avere il cash liquido no? Sul conto corrente quindi nelle fasi di panico adesso lo andiamo a vedere l'oro non è assolutamente un ben rifugio quindi per capitolando nelle fasi di incertezza di moderato ribasso dell'azionario è vero che l'oro è un bene rifugio tende quindi a salire alla debolezza contemporaneamente alla debolezza dell'azionario al contrario invece nelle fasi di panico anche l'oro si depressa e qui lo vediamo in alcuni esempi vedete questo è un grafico che eh riassume tre asset class in alto abbiamo l'oro sotto abbiamo la volatilità e qui sotto abbiamo l'azionario stiamo parlando di un periodo shock quello vedete dal duemila e sette duemila e otto duemila e nove cioè lo scoppio dei mutui su prime il fallimento di Lehman Brothers eccetera vedete ci sono dei momenti vedete qui dal diciamo così dall'inizio del duemila e otto fino al all'inizio del duemila e nove vedete che anche l'oro si deprezza contemporaneamente con le S&P 500 non solo in questa fase di aumento della volatilità quindi quando l'azionario è crollato per il discorso Lehman Brothers anche l'oro vedete è sceso pesantemente di valore quindi nel periodo duemila e sette duemila e otto multi su prime l'oro non ha svolto la sua funzione di bene rifugio cash is king gli investitori hanno preferito la liquidità l'obbligazionario magari di breve brevissimo periodo questo è un altro esempio più recente siamo nel duemila e venti pandemia lockdown covid il mercato azionario è crollato nel febbraio marzo del duemila e venti la volatilità è schizzata alle stelle e anche l'oro vedete si è deprezzato in modo sostenuto la stessa identica cosa la possiamo anche verificare in questo momento storico in cui stiamo parlando vedete alla debolezza del dell'azionario non è corrisposta vedete una debolezza anche eh dell'oro e anche nei momenti fondamentalmente di di panico vedete causati dal discorso ehm sì successivo alla guerra la tensione all'inflazione l'oro non ha svolto il suo ruolo di bene rifugio quindi l'oro rispetto all'azionario un bene rifugio beh nelle fasi di incertezza sì nelle fasi di panico no la classica domanda successiva è e nell'inflazione e rispetto all'inflazione che cosa succede cioè l'oro è una protezione nei confronti dell'inflazione anche qui è un falso mito in realtà storicamente non è sempre vero che l'oro ha fornito protezione contro l'inflazione dipende e dalle fasi storiche dipende dai momenti storiche dei storici e a volte l'oro è stato uno strumento di protezione altre volte no e quindi anche qui è una frase vera a metà se vogliamo in alcuni momenti sì in alcuni momenti no non è comunque una certezza che l'oro protegga dall'inflazione qui lo vediamo è bello se vogliamo lo possiamo vedere anche in modo indiretto da qui l'inflazione negli ultimi mesi è aumentata il prezzo dell'oro è diminuito ma al di là di questo aspetto che comunque è molto reale molto attuale proviamo a guardare anche il grafico storico del dell'oro in alto troviamo la quotazione storica dell'oro sotto troviamo lo stesso grafico rettificato per l'inflazione ora questo grafico rettificato per l'inflazione vedete non è un grafico molto carino cioè ci sono stati molti momenti in cui vedete che l'oro in termini di valori reali cioè l'netto dell'inflazione si è pesantemente depreciato ve lo faccio vedere in modo un pochino più ampio e qui vedete che eh si conferma la la mezza verità di primi in alcuni momenti ha coperto in altri momenti no quindi copre ehm dal dall'erosione dell'inflazione non sempre a volte sia a volte no non è una certezza non è un dettaglio di poco conto ok dopo aver chiarito tutti questi aspetti a livello di performance di ruolo all'interno del portafoglio e di ruolo eventuale se c'è di bene rifugio cerchiamo di capire eh di rispondere a una domanda no se un investitore volesse inserire l'oro all'interno del portafoglio quali sono le soluzioni che ha a disposizione no ora qui possiamo ehm illustrare mh tante soluzioni le vediamo in realtà tra poco tutte e ve le descriverò ciascuna entrando nel dettaglio per ciascuna vi illustrerò quelle che sono le caratteristiche le peculiarità i pregi e i difetti abbiamo vedete l'ingotti abbiamo le monete abbiamo i gioielli abbiamo gli etc abbiamo le azioni orifere gli etf sulle azioni orifere abbiamo i futures le opzioni cfd certificati di investimento volendo anche il conto eh metalli eh in questo caso declinato ovviamente nell'oro da un punto di vista operativo questi strumenti che adesso abbiamo visto in questa eh modalità grafica li possiamo distinguere e classificare in due tipologie i prodotti che permettono di investire nel loro fisico e i prodotti che permettono di investire nel loro finanziario monete e lingotti sono esempi di prodotti no che permettono di investire nel nel loro fisico perché chi li acquista possiede eh materialmente il lingotto possiede materialmente eh le monete che può tenere in casa in un cassetto nella cassetta di sicurezza in banca insomma dove gli pare però li eh possiede proprio fisicamente al contrario invece l'etc ad esempio sul sul loro sul loro fisico è un esempio di soluzione ehm che permette di investire nel loro finanziario cioè se io compro l'etc sul loro fisico sto investendo in lingotti d'oro ma non possiedo personalmente i lingotti semplicemente all'interno del mio deposito titoli avrò un prodotto finanziario che al suo interno conviene dei lingotti che saranno depositati in una banca eccetera stessa identica cosa con le azioni aurifere io non ho eh eh l'oro in mano ho delle azioni quindi sono socio di una società che ha come attività prevalente quella di occuparsi dell'estrazione piuttosto che della lavorazione dell'oro allora partiamo dai prodotti che ci permettono di investire eh sul loro fisico allora il primo prodotto no il lingotto d'oro è nell'immaginario collettivo è il principale strumento per investire nel loro fisico no? Eh la quotazione di un lingotto dipende dall'andamento dell'oro ma dipende anche dal cambio euro-dollaro non dimentichiamoci che il dollaro è denominato in come tutte le valute e come il materia prima scusatemi in dollari americani ehm è possibile selezionare formati eh diversi che hanno ovviamente un diverso peso quindi di conseguenza anche un diverso prezzo di acquisto vedete in questo momento se noi andiamo ad acquistare un lingotto d'oro abbiamo un esborso in euro di cinquanta e sei mila euro se andiamo a comprare invece il lingottino no? Da cinque grammi abbiamo un esborso di trecentosei euro quali sono le soluzioni eh le società diciamo così più serie se uno vuole acquistare lingotti d'oro io ve ne presento due italiani e più una straniera in Italia abbiamo Italpreziosi e Eurovilla che hanno anche eh le commerce no? Quindi anche direttamente dal sito potete comprare rispedizioni assicurate eccetera eh questi prodotti e all'estero invece abbiamo in Svizzera Pro Aurum che fa anche deposito doganale. Allora cerchiamo di capire quali sono i pregi e i difetti del investire in oro attraverso i lingotti. Allora partiamo dai pregi che possono esserci. Tu sai di possederlo, lo Stato non sa necessariamente che tu lo possiedi per cui un domani che dovessero fare una patrimoniale ecco che l'oro fisico, i lingotti o anche le monete eh possono essere esenti di fatto da questa cosa perché non li vai a dichiarare su quello quindi non vai a pagare eventuali eh patrimoniali. Eh è un asset anche brevi mano volendo e quindi insomma si presta questa negoziazione diciamo così. Eh se lo si conserva in casa non ci sono costi di custodia annui cioè non hai l'imposta di bollo dello zero venti per cento non hai costi o della cassetta di sicurezza non hai costi assicurativi. È un asset il lingotto d'oro che ti permette di fare il cassettista quindi puoi fare un investimento di lungo lunghissimo periodo senza nessun tipo di problema quindi lo puoi acquistare mantenere venti trent'anni lo puoi tramandare ai nipoti eccetera. Questi sono tutti aspetti positivi. Quali sono gli aspetti negativi? Beh in generale vale per i lingotti ma vale per tutte eh tutto l'oro in generale anche gli altri prodotti che vedremo dopo non paga interessi periodici. Ha delle commissioni di negoziazione lo spread che a volte sono anche abbastanza esose. L'importo minimo necessario per acquistare non è sempre ridotto eh per cui a volte diversificare su capitali ridotti non è semplice. Anche oggi in realtà esistono alcune ehm società che ti permettono di fare un piano di accumulo sul eh sul loro fisico però mh sono ancora soluzioni di nicchia se vogliamo. Se lo detieni in casa ovviamente sei soggetto a rischio furto per cui è consigliata la cassetta di sicurezza in banca però anche qui prevede dei costi quindi è un dato da considerare. Altro dato da considerare c'è il rischio quello di acquistare un prodotto falso. Oggi esistono no dei prodotti dei lingotti che hanno l'anima in tuxteno che è un una materia eh che ha un peso specifico simile all'oro e che è solo esternamente placato di oro oppure puoi acquistare oro magari di scarsa qualità no? Poi un asset poco liquido no? È difficile quando lo vuoi acquistare c'è la fila per vendertelo quando lo vuoi vendere ecco che magari questa fila svanisce quindi c'è una qualche criticità nel venderlo soprattutto se non hai documentazione di acquisto non l'hai conservato nei blister non hai certificazione di 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 autenticità e di qualità del prodotto quindi un asset tendenzialmente poco liquido eh quindi è uno strumento che eventualmente se uno eh desidera eh investire in ottica di medio lungo periodo venti trent'anni o cose di questo tipo è sicuramente da eh valutare se invece uno ricerca una soluzione di eh breve respiro dove intendo settimane mesi o anche pochi anni ecco che i costi del del delle commissioni di acquisto la scarsa liquidità insomma loro rendono poco efficiente per il breve periodo. L'alternativa all'ingotto in genere sono le monete no? Eh qui abbiamo un po' in realtà l'imbarazzo della scelta perché ci sono eh diverse tipologie diverse diverso peso diverse dimensioni diverso valore del dell'investimento pensiamo abbiamo la sterline, il marengo, il Krugerrand, l'American Eagle eh la quotazione delle monete in genere dipende dal dall'andamento dell'oro e dall'andamento anche qui del cambio euro-dollaro. Per chi lo volesse acquistare io qui vi presento quattro società Italpreziosi e Oroviglia che abbiamo già conosciuto nella slide di prima, Bolaffi e Confinvest che è anche quotata in borsa. Mi raccomando evitate come la pesti, compro oro che sono la soluzione proprio eh meno efficiente per andare a comprare delle dell'oro, delle monete eccetera. Anche qui pregi e difetti. Allora a livello di di pregi se vogliamo anche qui sono un asset brevi mano, sono un asset che possono eh diciamo così bypassare la patrimoniale. Eh tra i pregi abbiamo secondo me anche la possibilità di avere un'ampia scelta a livello di import a investire, no? Ogni moneta ha determinate caratteristiche a livello di peso, dimensioni, quantità di oro e quindi ce ne sono un po' per tutte le tasche. Con le monete in effetti a volte è possibile anche diversificare capitali ridotti. Anche qui lo possiamo eh utilizzare come asset da cassettista, no? Per il lungo lunghissimo periodo per tramandare ai figli e nipoti eccetera. Anche qui se tenuto in casa abbiamo il rischio furto ma eliminiamo tutti i costi della custodia, l'assicurazione eccetera. Tra i eh difetti anche qui non paga interessi, le commissioni di negoziazione sono abbastanza elevate, c'è il rischio furto se lo teniamo in casa, ci sono i costi eh assicurativi della cassetta di sicurezza se lo teniamo in banca, anche qui abbiamo il rischio del falso, della qualità scadente del prodotto se non siamo esperti, quindi verificare sempre la qualità, verificare sempre il peso, le dimensioni e eh soprattutto eh orientarvi su società che eh commerciano questi prodotti in modo serio come quelle che vi ho eh elencato. Eh evitare, ecco questo è un dato importante, le monete che hanno anche un valore numismatico perché in quel caso ovviamente non paghi solo il prezzo, il valore dell'oro, il peso dell'oro ma paghi anche una quota in più che il valore numismatico. Queste sono da eh evitare. Anche qui abbiamo un problema di liquidità perché quando le volete comprare c'è la fila per vendere, quando le volete andare a rivendere ecco che il discorso cambia. Anche qui valgono le considerazioni che abbiamo fatto per i lingotti eh sono uno strumento se vogliamo di lungo periodo, non certo uno strumento di breve periodo, no? Per cui da questo punto di vista sono un'asse da eh valutare solo in ottica di medio lungo periodo. Poi ci sono i gioielli, adesso qui in realtà li cito solo per completezza ma in realtà non sono una soluzione efficiente di eh di investimento nell'oro eh dal mio punto di vista i gioielli in oro non sono neanche una soluzione di investimento eh se vogliamo sono un prodotto come dire boh eh non so emozionale no? Servono per fare un regalo o sancire eh un momento importante non so la nascita del figlio, un matrimonio, un fidanzamento, una laurea, cose di questo tipo. Eh pregi non ne rilevo eh tra i difetti eh beh non si paga solo il valore dell'oro ma si paga anche la lavorazione, la mano d'opera, eh la marca, il brand, la storicità a volte di un gioiello. Non sono un prodotto liquido anzi sono molto meno liquide rispetto a monete o ehm o lingotti e anche qui c'è un problema di scarsa qualità e di fasi. Quindi insomma i gioielli ve li cito per completezza ma non sono da valutare in un'ottica di ehm di 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 soluzione di investimento. Passiamo adesso ai prodotti basati sul loro finanziario. Ora rispetto al loro fisico che possiedi materialmente eh hanno alcuni punti di forza nel senso che sono molto semplici da gestire a livello di acquisto di vendita e sono prodotti molto liquidi quindi facilmente acquistabili facilmente scambiabili in qualsiasi momento e quindi velocemente monetizzabili. Non ci sono eh rischi di acquistare prodotti falsi o i costi di custodia, rischio furto eccetera. È chiaro che hanno eh degli svantaggi eh non sono brevi mano eh un domani fanno una patrimoniale sicuramente rientrano nel perimodo di una patrimoniale già oggi ci rientrano in realtà perché l'imposta di volo dello zero venti per cento all'anno sul deposito titoli beh sicuramente li colpisce ed è tecnicamente una tassa patrimoniale che noi andiamo a pagare eh ogni anno e quindi eh questi sono i le caratteristiche salienti di questa tipologia. Vediamo un po' nel dettaglio. Allora conto metallo partiamo da da questo primo prima soluzione. Anche qui eh la cito per completezza più che altro. È una soluzione poco utilizzata soprattutto in Italia che quasi nessuno conosce in realtà. Ecco è già più diffusa eh per quello che sono le banche svizzere che è un prodotto diciamo così principalmente fornito proprio dalle banche svizzere. Tecnicamente che cos'è? Un conto corrente simile al conto tradizionale semplicemente che eh è denominato in oro piuttosto che in euro piuttosto che in dollari eh americani. Esistono in due versioni c'è la versione eh allocated cioè l'intestatario del conto è titolare di un determinato ammontare di eh di lingotti d'oro identificati no in modo oggettivo attraverso un un come si chiama un numero di serie oppure esiste la versione allocated dove l'intestatario del conto è possessore di un determinato ammontamento di lingotti d'oro che però non è identificato in modo specifico quindi con un numero di serie eccetera. Sono finezze se vogliamo. Questa è una prima modalità che uno eventualmente può utilizzare per investire in oro quindi un conto corrente in oro. Soluzione decisamente poco utilizzata soprattutto in Italia però c'è la possibilità di ottenere questa soluzione. Poi abbiamo il discorso etici. Ecco questi sono probabilmente la soluzione che io personalmente ritengo più efficiente per investire nell'oro finanziario. Ehm dal mio punto di vista se uno vuole l'oro fisico l'ingotti sono la soluzione migliore se uno vuole l'oro finanziario gli etici adesso vediamo di quale tipologia sono la soluzione per l'oro finanziario più efficiente. Sono questi due riferimenti che io personalmente mi sento di consigliare. Ehm dicevo è una soluzione decisamente efficiente per investire nell'oro. Sono prodotti liquidi, ben scambiati, sono quotati eh sul mercato quindi c'è una trasparenza di di prezzo. Sono sono anche duttili dal punto di vista operativo perché possiamo fare i piani di accumulo, possiamo eh utilizzare l'interno di portafogli statici e portafogli anche gestionativa eh possiamo utilizzare in ottica di breve ma anche di medio o di lungo periodo. Quindi insomma c'è una buona duttilità operativa che è unita alla elevata liquidità del prodotto fa sì che sia uno strumento dicevo efficiente. Però partiamo un attimo con le basi. ETC è un acronimo, sta per Exchange e Trading Commodities, sono i famosi fratelli degli ETF. Adesso oggi non entriamo nel dettaglio eh di cosa sono gli ETF, di che cosa sono gli ETC perché su questi argomenti ho già fatto parecchie lezioni, c'è un corso tra l'altro gratuito sul mio canale eh YouTube, qui ho sbagliato a cliccare scusate se voi andate sul mio canale YouTube vedete proprio qui in alto c'è un corso gratuito investire eh con gli ETF e la terza lezione è tutta destinata agli ETC quindi che cosa sono, pregi, difetti, caratteristiche eccetera. Quindi chi vuole approfondire questo argomento eh lo può trovare tutti i riferimenti lì. Quindi oggi non entriamo nei tecnicismi dopo il scontato che tutti conosciamo gli ETC. Dico solo un aspetto importante, gli ETC sono prodotti che fondamentalmente permettono di replicare l'andamento dell'oro e la replica della performance dell'oro può avvenire in due modi. O gli ETC usano quella che è chiamata la replica fisica o gli ETC utilizzano quella che è chiamata replica sintetica. Se la replica è fisica vuol dire che l'ETC compra effettivamente i lingotti. Quindi io replico la performance dell'oro comprando materialmente i lingotti che andrò a custodire in un cavo. E quindi in questo caso io non soffro, cioè io l'ETC non soffre l'effetto negativo del contango e quindi è una soluzione di investimento efficiente. Se io invece utilizzo i prodotti replica sintetica ecco che il gestore dell'ETC per replicare la performance del sottostante utilizza i contratti futures che hanno una scadenza per cui fondamentalmente soffrono l'effetto negativo del contango che zavorra pesantemente sul lungo periodo le performance del sottostante. Ecco questa seconda soluzione non è efficiente. Quindi quando si parla di ETC e di oro ci si riferisce limitatamente ai prodotti a replica fisica, quindi gli ETC che investono nel sottostante fisico e questo è importante per non avere l'incognita negativa del contango. Tra i prodotti a replica fisica quali possiamo trovare come soluzioni operative? Possiamo trovare l'ETC sul loro fisico a cambio aperto oppure l'equivalente a cambio coperto. Qual è la differenza? Bene, primo caso se a cambio aperto vuol dire che la quotazione dell'ETC è determinata contemporaneamente dall'interagire di due variabili. Una è l'andamento dell'oro, la seconda è l'andamento del cambio euro-dollaro, quindi due variabili per determinare il prezzo dell'ETC. La seconda soluzione è l'ETC sul loro fisico che è a cambio coperto. In questo caso il rischio cambio è completamente eliminato perché l'ETC contiene un meccanismo di copertura del cambio, per cui l'unica variabile che determina l'andamento dell'ETC è l'andamento dell'oro. Ovviamente la copertura del cambio ha un peso, ha un costo tecnicamente, è un costo che varia a seconda dei differenziali delle valute che può essere anche importante da un punto di vista operativo e quindi a seconda della nostra propensione a rischio oppure del nostro obiettivo finanziario, della strategia di investimento, potremo optare per una soluzione piuttosto che per l'altra. Se siamo allergici a rischio e quindi vogliamo ridurre o eliminare il rischio cambio all'interno del portafoglio, opteremo per un'ETC a cambio coperto. Se invece possiamo assumerci il rischio cambio, ecco che il discorso si allarga anche agli ETC con il cambio aperto e qui si prestano a piani di accumulo, strategie statiche, strategie dinamiche senza nessuna tipologia di problema. Ne ho identificati due, il primo è a cambio aperto e questo, vedete un ETC Invesco Physical Gold, quindi è un prodotto a replica fisica, quindi compra i lingotti per replicare la performance dell'oro e a cambio aperto, quindi la quotazione di questo prodotto è soggetta a due variabili, l'andamento dell'oro e l'andamento dell'euro, dollaro. Ha un ter anno dello 0,12, più forse c'è un errore in realtà in questo valore, dopo mi riservo, anzi ve lo verifico subito al volo, chiedo, vedi un attimo che mi collego da qui forse è un rifuso tipico del di un copia in colla, andiamo a verificare subito il costo, deve essere lo 0,53, vado a memoria, qualcosa del genere e non lo 0,12, chiedo vedi, adesso lo andiamo a verificare, no lo 0,12 hanno, mi sono confuso, io chiedo scusa, il dato è corretto, allora, qui trovate, vedete il codice Aisin, qui trovate il ticker, ovviamente è un prodotto da cumulo perché l'ora non paga interessi, quindi se voglio lavorare su un etc, sul loro fisico a cambio aperto, questo di Invesco è il prodotto ad oggi più efficiente, se io invece voglio lavorare sempre sul loro fisico ma nella versione ezzata, cioè con copertura del cambio, ecco che c'è questo prodotto di Xtrackers, è a replica fisica perché compra fisicamente l'oro, è a cambio coperto, quindi l'oro è completamente anestetizzato come effetto e l'unica variabile che incide sul prezzo di questo prodotto è l'andamento dell'oro e qui trovate, vedete il codice Aisin e il ticker. Allora, alcuni aspetti su questi etc che ho descritto, indipendentemente che siano a cambio aperto o a cambio coperto, allora quali sono i pregi? Beh innanzitutto gli etc sul loro fisico non hanno l'otto minimo per cui è possibile diversificare anche un capitale ridotto in termini monetari. È uno strumento semplice, noi possiamo acquistare, vendere, incrementare o ridurre le quote in qualsiasi momento perché il prodotto è quotato sul mercato regolamentato, ad esempio borsi italiane, qui abbiamo anche il vantaggio della trasparenza del prezzo perché ogni momento di mercati aperti noi sappiamo il valore del nostro etc e di conseguenza della quota in portafoglio. Sono prodotti liquidi, scambiati, non ci sono problemi, c'è anche il market maker a garantire la liquidità, eliminiamo il problema di acquistare dell'oro falso, non c'è il rischio di furto, sono strumenti semplici da comprendere, da utilizzare se vi guardate il mio video dura un'oretta e mezzo circa e vi chiarisce tutti gli aspetti sugli etc, pregi, difetti e caratteristiche, vi consiglio di andare a vedere sul canale YouTube. È un prodotto d'utile perché questi etc li possiamo usare diciamo per i piani di accumulo, per portafogli statici o per portafogli a gestione attiva, sono strumenti che sono d'utile anche dal punto di vista dell'ottica temporale perché li possiamo usare come strumenti di investing, quindi in ottica di medio e lungo periodo, a volte anche come cassettista o li possiamo utilizzare anche in ottica trading e quindi di breve periodo. Quali sono i difetti se vogliamo? Beh innanzitutto non paga interessi, non esistono solo la versione d'accumulo perché l'oro non paga cedole, dividendi eccetera. Da un momento che noi li acquistiamo e li depositiamo nel nostro deposito titoli, sono soggetti ovviamente all'imposto di bollo dello 0,20 per cento anno e quindi subiscono ogni anno una patrimoniale dello 0,20 che potrebbe essere anche superiore se il governo dovesse un domani fare una patrimoniale più ampia. Queste insomma più o meno sono le caratteristiche. Vi dicevo, lo ripetiamo, vi sconsiglio gli etc che replicano la performance del sottostante attraverso la replica sintetica perché in questo caso soffrono l'effetto contango che nuoce alla lunga sull'efficienza del prodotto finanziario. Poi abbiamo le azioni aurifere. Che cosa sono? Sono azioni di società che sono attive nel settore minerario, in particolare nell'estrazione dell'oro. È una soluzione se vogliamo in diretta per investire nell'oro. Non compra direttamente l'oro, compra una società che si occupa di oro. Caratteristica principale hanno delle oscillazioni di prezzo, quindi una volatilità molto elevata, quindi oscillazioni di prezzo molto elevate, volatilità molto elevate, quindi sono prodotti da montagne russe, se vogliamo, anche per cuori forti. Hanno una caratteristica, cioè hanno una sorta di effetto leva rispetto alla performance dell'oro, no? Cioè gli utili societari tendono ad aumentare più del prezzo dell'oro nelle fasi in cui l'oro tende a salire, però ovviamente diciamo così subiscono ribassi più marcati nei momenti in cui la riduzione del prezzo dell'oro si fa sentire. Ovviamente si va a lavorare in questo caso su singole azioni per cui c'è il rischio insolvenza della società. Non dimentichiamoci che l'andamento della quotazione di una società aurifera in questo caso non è determinato solo dal prezzo dell'oro di cui abbiamo parlato di questo effetto leva, ma anche da come la società viene gestita, quindi dalla gestione della società, dall'andamento delle miniere, dalla scoperta di nuovi giacimenti, dai costi di estrazione che variano da zona a zona, da miniera a miniera. Le principali azioni aurifere le troviamo un po' qui descritte in questa slide, sono in America, in Canada e in Australia. Ci sono un paio di società, dopo le vediamo anche quotate sul mercato italiano, ma sono poco conosciute, poco liquide e tra l'altro non sono neanche società estrattive, ma sono società di arte orafa, quindi orientate alla lavorazione e alla commercializzazione del gioiello. Allora, qui troviamo le principali, vedete, li ho inseriti in questo grafico dove vi faccio vedere le performance degli ultimi vent'anni total return. Barry Gold, forse una delle principali, forse più famosa perché un paio di anni fa ne aveva comprato anche delle quote Warren Buffett, poi abbiamo Newmont, poi abbiamo King Ross, Freeport, Anico, Yamana, Nova Gold, insomma ce ne sono vari, non sono tutte, ce ne sono anche altre che qui per esigenze di sintesi non ho, dopo vi dico dove trovarne altre se lo desiderate. E vedete che ci sono performance molto diverse perché c'è chi negli ultimi vent'anni ha fatto un più 800 come Alamos Gold e chi ha fatto un meno 61% come King Ross, quindi insomma ci sono performance molto diverse. Per darvi un'idea, questa è una delle società più famose a livello aurifero, Freeport, qui vedete che abbiamo il grafico storico dagli anni 90 ad oggi e vedete che sono le montagne russe che vi dicevo prima, cioè oscillazioni di prezzo molto marcato, una volatilità molto spiccata, quindi sono titoli da usare in ottica trading più che in ottica di medio periodo, da cassettista, perché hanno oscillazioni molto barcate nel bene o nel male. Allora, quali sono i pregi, quali sono i difetti delle azioni aurifere? Allora, tra i pregi citerei la trasparenza di prezzo perché sono quotate su un mercato regolamentato, sono molto liquide, si possono comprare, vendere, incrementare, ridurre in qualsiasi momento, permettono di amplificare quando la quotazione dell'oro sale, le performance dell'oro, questo ovviamente è anche un'arma a doppio taglio perché quando l'oro si deprezza queste ne risentono maggiormente. Sono uno strumento semplice da comprendere, da utilizzare perché sono un'azione, quindi le caratteristiche di analisi sono quelle delle singole azioni, quindi il bilancio, la tendenza e tutte le altre caratteristiche. Sono un prodotto da trading, abbiamo detto, di breve o di brevissimo periodo a causa di questa oscillazione di prezzo. Altre caratteristiche, l'elevata volatilità l'abbiamo già citata, sono, beh, diciamo che fare stock picking è abbastanza complicato perché l'analisi del bilancio, dicevo, l'abbiamo citato prima, tra le righe, senza entrare nel dettaglio, è abbastanza complicata perché bisogna tenere conto anche della tendenza dell'oro, di tutti questi aspetti e quindi è più complicato analizzare un'azienda aurifera rispetto a un'azienda che ha business diversi, più tradizionali. Diciamo che andare sulle azioni aurifere, premesso che vale sempre la regola del diversificare il più possibile, è un'operazione per investitori esperti, quindi non è uno sport da neofiti, ecco questo è il dato, però sono una soluzione da poter valutare. Dicevo, quelle erano quotate sui mercati esteri, in Italia ne abbiamo quotate tre, le troviamo qui descritte, con Finvest, abbiamo Gismondi e abbiamo Fope, le ultime due sono arte oraf, prevalentemente, quindi lavorano il gioiello e lo commercializzano. Qui trovate il grafico storico da un paio d'anni a questa parte, da quando un po' sono quotati questi titoli, hanno una storia recente di borsa. Gli ultimi due sono, vedete, in una fase rialzista, mentre con Finvest è un po' di tempo, sono due annetti circa malcontati che è all'interno di una fase di debolezza. Se però uno volesse investire nelle azioni aurifere, ma senza fare stock picking, senza doversi analizzare i bilanci, senza andare incontro a rischio specifico, quindi a rischio insolvenza e attraverso una volatilità decisamente più bassa, ecco che esistono gli ETF, gli ETF non sono altro che dei fondi comuni di investimento quotati in borsa che si caratterizzano per replicare, in questo caso, l'andamento di un paniere composto da una pluralità di azioni che appartengono al settore aurifero. Quindi, di fatto, compriamo un paniere ampiamente diversificato per società, per emittenti, per area geografica, anche per valuta, e compriamo uno strumento, l'ETF, che non può fallire. Anche questo è un aspetto senz'altro importante. Questa, secondo me, è la modalità, l'ETF, azioni aurifere, più semplice, meno rischiose, quindi direi più efficiente, più saggia per investire nelle azioni aurifere. Quindi non compro le singole azioni, non mi creo io un giardinetto, compro direttamente l'ETF, fa tutto lui e ho un qualcosa che non può fallire come strumento, l'ETF è ampiamente diversificato e con una volatilità più bassa. Anche qui, se io compro un ETF azione aurifere, che vantaggi ho? Beh, la trasparenza di prezzo, perché è quotata sul mercato regolamentato, è un prodotto abbastanza liquido, abbastanza scambiato, è un ETF, quindi uno strumento semplice da comprendere. Se qualcuno non conosce che cos'è un ETF, ricordo sempre che sul mio canale YouTube trovate il corso investire con gli ETF, trovate proprio tutte le lezioni del corso, sono gratuiti, sono fatte molto bene, adesso non dovrei dirlo io, però il riscontro che ho è quello. Sono un prodotto ampiamente diversificato, quindi non devo fare stock picking, la volatilità dell'ETF è inferiore rispetto alle singole componenti, quindi alle singole azioni aurifere. Posso utilizzare all'interno del portafoglio per attivare un piano d'accumulo, per una strategia dinamica, volendo anche per una strategia statica, ma in realtà ritengo che siano un asset più da strategia a gestione attiva che da strategia da cassettista. In ogni caso, insomma, si prestano sia lato investing che lato trading. Ovviamente sono prodotti negoziati in borsa, quindi entro nel deposito titoli, quindi sono soggetti all'imposta di bordo, alla patrimoniale. Ah, una cosa che non ho citato, le azioni aurifere sono prevalentemente di mercati esteri, quindi il nostro, sia le singole azioni sono soggette al rischio valutario, ma anche l'ETF che ho selezionato per investire nelle azioni aurifere, vedete, è a cambio aperto. Quindi questo è l'ETF che ho selezionato per andare a lavorare sulle azioni aurifere, è a replica fisica, quindi compra fisicamente le azioni, accumula dei problemi, quindi non paga cedole, dividendi, ma reinveste automaticamente. Qui trovate il ticker e il codice ISIN e a cambio aperto, per cui fondamentalmente le variabili che determinano il prezzo di questo prodotto sono due. La prima è l'andamento del prezzo del paniere, in questo caso il paniere replica l'indice NICE ARCA GOLD, quindi sono azioni che si caratterizzano per avere almeno il 50% dei propri ricavi derivati dall'estrazione dell'oro o dell'argento, in più c'è anche la variabile euro-dollaro. Questa è la composizione del nostro prodotto, vedete qui sono le principali azioni aurifere, molte di queste vedete le abbiamo trovate anche nel grafico di prima delle singole azioni e qui trovate anche la diversificazione a livello geografico, giusto per farvi capire come vi dicevo prima, vedete che il peso maggiore è America, Canada e Australia, c'è una buona rappresentanza in realtà anche di Sud Africa e quindi questa è un'altra soluzione che ritengo essere assolutamente interessante. Poi esistono i certificati di investimento che sono strumenti cartolarizzati che permettono di investire su un sottostante e permettono di investire su un sottostante in modalità diversa a seconda di quale tipologia di certificato acquistiamo. Se acquistiamo un prodotto a capitale protetto, acquistiamo un prodotto che a scadenza prevede una protezione minima, se la protezione è il 100% ecco che a scadenza il certificato rimbosserà il 100% del valore nominale, quindi se il valore di emissione era 100, nello scenario peggiore salvo default dell'emittente del certificato rimborsa 100, quindi possiamo investire nell'oro attraverso questa soluzione a capitale protetto, oppure possiamo avere un prodotto a capitale condizionatamente protetto, vuol dire che a scadenza il capitale protetto a patto che non si sia verificato l'evento barriera, quindi che il sottostante o i sottostanti se sono titoli azionari non siano scesi sotto un determinato livello di prezzo. Poi esistono anche dei certificati tracker, benchmark, cioè che replicano linearmente l'andamento di un sottostante. Questa tipologia di certificati è simile se vogliamo ai fondi comuni di investimento, piuttosto che agli ETF che abbiamo citato prima e questa categoria è chiamata capitale non protetto, quindi sono dei replicanti in modo lineare della performance del sottostante, potremmo trovarne anche che investono nell'oro o in soluzioni aurifere. E poi esiste tutta la parte dei certificati a leva, a leva dinamica, a leva fissa, eccetera, da preferire se proprio vogliamo quelli a leva dinamica, ma in ogni caso quelli sono strumenti dal mio punto di vista poco efficienti, sei nelle mani del market maker per la negoziazione, insomma non è una soluzione che mi sento di consigliare. In generale i certificati per investire nell'oro non sono la mia soluzione preferita. Ecco, se vogliamo i prodotti a capitale condizionatamente protetto per investire sulle azioni aurifere potrebbero essere valutati come alternativa all'acquisto diretto delle azioni aurifere grazie al rendimento asimmetrico che offrono, cioè la possibilità di ottenere un risultato positivo anche a fronte di un ribasso del sottostante entro i limiti della barriera. Per il resto i certificati per l'oro non sono secondo me la soluzione più idonea. Abbiamo citato i certificati a leva, ecco mi collego, visto che stiamo parlando di prodotti a leva, con tutti quelli che sono i prodotti derivati, quindi quelli che sono fondamentalmente le opzioni e i futures principalmente. Qui adesso non entriamo nel dettaglio di che cosa sono le opzioni, di che cosa sono i futures perché non è l'obiettivo di oggi. Quello che mi giova a sottolineare è che opzioni e futures sono strumenti decisamente efficienti da un punto di vista operativo. I futures permettono di implementare delle strategie direzionali, o sei long, rialzista, o sei short, ribassista, mentre le opzioni sono ancora più d'utili da questo punto di vista perché ti permettono di implementare non solo delle strategie long o short, ma anche delle strategie che ti permettono di guadagnare anche in un contesto laterale del mercato, quindi guadagni se l'oro non sale sopra un determinato valore all'interno di una finestra temporale, oppure puoi andare a lavorare su determinate condizioni di volatilità. Sono prodotti assolutamente efficienti, dicevo, molto liquidi, molto scambiati, c'è una trasparenza di prezzo notevole perché sono scambiati su mercati regolamentati, sono uno strumento ovviamente più da trading, se vogliamo intraday o comunque un'operatività di breve respiro. Le opzioni magari si prestano un'operatività un pochino più ampia rispetto ai futures, però in genere l'utilizzo è quello di breve periodo. Hanno però delle controindicazioni, sono strumenti per investitori esperti, per investitori evoluti, sono un punto di arrivo, non un punto di partenza sia per il trading che per l'investing, quindi non vanno bene per i neofiti. Serve attivare l'operatività, stiamo lavorando su strumenti derivati, quindi serve attivare l'operatività sull'home banking per l'abilitazione, servizio all'operatività strumenti derivati, si lavora a margine, si lavora con la leva, sono strumenti di breve, non di lungo periodo, per cui non puoi fare il cassettista con questi strumenti e quindi insomma sono strumenti efficienti, soprattutto le opzioni, ma assolutamente complicati, per cui vanno studiati, vanno compresi, maneggiati con estrema cura, per cui bisogna essere esperti e poi avere anche una propensione a rischio notevole perché stiamo lavorando a leva e quindi possiamo perdere più del capitale investito. Volendo esiste anche la soluzione dei CFD, CFD è un acronimo, sta per Contract for Difference, su uno strumento OTC, cioè non quotato sul mercato regolamentato e al di là di questo discorso hanno un po' la caratteristica principale che quando io acquisto un CFD ad esempio su un titolo azionario piuttosto che sull'oro io non divento proprietario di quell'azione, di quel sottostante, ma semplicemente sto negoziando il suo andamento attraverso un contratto di scambio con la controparte, cioè se io compro un CFD con sottostante ENI io sono a rialzo su ENI e contemporaneamente la mia controparte che presumibilmente il mio broker sarà short sul titolo ENI, se io compro un CFD sull'oro io sono long sull'oro e la mia controparte che è quella che mi permette di operare è contemporaneamente short. In un mondo normale la controparte tende a coprirsi da questo rischio e quindi guadagnare solo dallo spread, in realtà in molti casi la copertura avviene magari solo a campione in determinati casi e quindi è un po' come se oltre all'andamento del mercato potessi avere anche come diciamo così come nemico, passatemi il termine, anche la controparte, ci sono broker più affidabili, più seri, altri invece soprattutto quelli che hanno sedi in posti esotici e cose di questo tipo che hanno meno scrupoli da questo punto di vista. Quindi non sono una soluzione che ritengo essere efficiente per lavorare su questi prodotti, però giusto per completezza ve l'ho citata. Allora passiamo all'ultimo argomento che è quella dell'operatività. dal punto di vista operativo l'oro noi lo possiamo trattare come investing o come trading. Cosa cambia? Cambia ovviamente le strategie operative ma anche l'ottica temporale, l'investing un'ottica di medio-lungo periodo, il trading un'ottica di breve respiro. Ora partiamo dall'investing, un attimo che bevo. Ora l'atto investing l'oro è uno strumento molto d'utile soprattutto gli etici sull'oro fisico perché ci permettono di applicare, replicare qualsiasi strategie, dal piano d'accumulo all'utilizzo dell'etici sull'oro fisico all'interno di un portafoglio statico, i famosi portafogli PIG, l'ESI portfoglio, oppure possiamo utilizzare all'interno di un portafoglio che è gestito in modo dinamico e attivo. Giusto alcuni dati per completezza. Pack su, quindi piano d'accumulo sull'oro. Qui ho fatto una simulazione partendo da periodi temporali diversi, quindi dal 1980, partendo dall'85 al 90, 95, eccetera, sull'oro. Che risultati avrei ottenuto? Vedete che indipendentemente dal momento di inizio io avrei comunque ottenuto un risultato positivo. Questa statistica è stata fatta un mese fa, quindi è aggiornata a metà giugno, quindi sono dati assolutamente freschi e recenti. Quindi dipendentemente dal momento di inizio l'oro avrebbe dato risultati positivi, cioè un piano d'accumulo sull'oro avrebbe dato un risultato positivo. TIR significa tasso interno di rendimento e quindi chiamiamolo rendimento dell'oro. Quindi il concetto è se io applico un piano d'accumulo sull'oro, sul medio e lungo periodo, è molto probabile, non ci sono certezze sui mercati finanziari che ottengono un risultato positivo. Quindi prima strategia di investing è il piano d'accumulo. Oppure possiamo utilizzare l'oro, ad esempio l'ETC sempre sul loro fisico all'interno di un portafoglio a gestione passiva, gestione statica, i famosi lazy portfolio. Qui vi presento il famoso golden butterfly, che fondamentalmente prevede di diversificare il portafoglio, vedete, con un 40% di obbligazionario, dove un 20% sono obbligazioni di breve respiro, quindi con scadenza breve, e un 20% sono con scadenza lunga, superiori a 20 anni. Poi abbiamo l'azionario, anche qui vedete un 40%, un 20% large cap, le blue chips fondamentalmente, e un 20% small cap, quindi titoli a piccola e media capitalizzazione. E poi un 20% sul oro. Una volta che uno ha comprato gli ETF, e quindi in totale sono 5, vedete, 1, 2, 3, 4, 5, ognuno con i 20% di peso, non bisogna far altro che ribilanzare periodicamente il portafoglio, ad esempio una volta ogni 12 mesi, quindi una volta all'anno. Se avessimo applicato questa strategia in questo portafoglio statico, quindi prevedo l'asset allocation ideale, oggi compongo il portafoglio, poi ogni 12 mesi lo ribilancio, non devo fare nient'altro. Che risultati avrò ottenuto? Avrò ottenuto questa equity line, questa è l'andamento della linea, l'equity line sarebbe la linea dei profitti, ci sarebbe l'andamento del nostro conto corrente se avessimo applicato dal 2005 ad oggi questa strategia con denaro reale appunto sul nostro conto. Saremmo partiti con 10 mila dollari, oggi avremmo 33 mila dollari, avremmo avuto un rendimento analizzato del 7% e un drawdown del 14%, risultati da un punto di vista monetario e anche in termini di rapporto rischio rendimento decisamente interessanti, ma interessanti soprattutto in confronto ad esempio con un portafoglio 100% azionario. Se io avessi, quindi facciamo una simulazione sempre dal 2005, linea blu è il nostro portafoglio, il Gordon Butterfly che abbiamo appena citato utilizzando l'ETC sul loro fisico, mentre la linea rossa è l'andamento dell'S&P 500, quindi un portafoglio 100% azionario. Perché ho preso l'S&P 500? Perché è un'assee, che è storicamente sempre cresciuta, adesso sta correggendo per carità, però ha registrato pochi mesi fa i massimi storici, quindi è un asset che sul lungo periodo è stata rialzista e ha dato degli ottimi risultati ai propri investitori. Il risultato qual è? Beh, se noi guardiamo il net profit, il 100% azionario vince, perché 33 mila dollari contro 43 mila. Anche il nostro rendimento anno è più basso, perché del portafoglio intendo, un 7% con un'880. Quindi abbiamo l'1,80% in più all'anno sul 100% azionario. Però se noi andiamo a guardare il rischio, quindi il drawdown, la nostra strategia ha avuto un drawdown del 14%, che è gestibile a livello monetario, ma anche a livello psicologico. Mentre il portafoglio 100% azionario ha avuto un drawdown del 50%, cioè in questa fase qui si è dimezzato del 50%. Seguirla, non solo da un punto di vista monetario, ma psicologico, non è assolutamente semplice. E anche, vedete, gli indicatori di rapporto rischio-rendimento, che siano Sharp e siano Sortino, dimostrano che questo portafoglio diversificato ha avuto un'efficienza in termini di rapporto rischio-rendimento superiore. Il valore di Sortino e di Sharp è maggiore in entrambi i casi. Ma noi l'oro fisico lo possiamo utilizzare anche all'interno di una strategia gestionativa. Quindi, ad esempio, prendiamo lo stesso portafoglio sempre il butterfly, il golden butterfly, quindi lo stesso portafoglio che abbiamo appena descritto in chiave statica, in chiave pigra, e la andiamo a gestire in modo dinamico, ad esempio, attraverso una strategia trend follower, ad esempio, che prevede di mantenere questi prodotti in portafoglio solo quando sono impostati a rialzo e di venderli, rimanendo cash sul conto quando l'asset non è più impostato al rialzo, quindi facendo una gestionativa di tipo trend follower, si dice, l'esempio classico è l'incrocio tra prezzo e media mobile. Che risultati avremmo ottenuto? Il rendimento analizzato sarebbe leggermente diminuito, vedete, avremmo ottenuto un 5,80% all'anno, ma guardate qui il drawdown è del 5%, del 6%, quindi abbiamo ridotto di poco il rendimento, abbiamo ridotto di molto il drawdown, se vi ricordate qui il drawdown era del 14, quindi siamo passati da un set di rendimento, un 14 di drawdown, a un 5,86, quasi un 6% di rendimento, quindi un 1% poco più in meno, ma un drawdown vedete che è meno della metà, un 5% contro un 14% è un dato significativo, tant'è che se noi andiamo a analizzare Sharp e Sortino troviamo dei valori decisamente più elevati, quindi insomma a morale della favola possiamo utilizzare il nostro oro anche all'interno di una strategia a gestione attiva. Oppure possiamo utilizzare l'oro a livello di trading, quindi di breve, brevissimo periodo e qui gli strumenti più efficienti, non sono certo le monete e gli ingotti, ma sono o gli ETC se l'operatività di trading è comunque di un respiro sufficiente, oppure l'ideale sarebbero ovviamente i futures oppure le opzioni, volendo i CFD con le criticità che abbiamo descritto prima. Se vogliamo fare trading che cosa possiamo fare? Beh, possiamo fare trading intraday o trading comunque di breve, brevissimo periodo, quindi poche sedute di negoziazione, insomma massimo una settimana o due per dare un orizzonte temporale e possiamo applicare strategie di tre tipologie, strategie di breakout di prezzo, strategie basate sulla stagionalità e strategie basate sui bias, adesso vediamo un esempio di ciascuna di queste strategie. Partiamo dalle strategie di breakout, allora dovete sapere che il primo aspetto da considerare quando si fa trading è capire qual è il carattere del sottostante. I sottostanti non sono tutti uguali, hanno delle peculiarità di movimento. Queste peculiarità di movimento, oggi non entro nei dettagli perché su questo io ho fatto molti video, sempre sul mio canale YouTube li trovate, danno al carattere, danno al sottostante un carattere che può essere mean reverting oppure breakout. Se il carattere mean reverting vuol dire che conviene acquistarlo sulla debolezza dei prezzi e vendere sul rimbalzo. Il carattere mean reverting, lo dice la parola, tende a sfruttare il ritorno verso la media dei prezzi, quindi quando si sono depreciati, sono i famosi iper venduto, li vado a comprare appena rimbalzano, vende, monetizza il guadagno. Al contrario esistono le strategie di breakout che fanno esattamente il contrario, acquistano la forza, quindi rompe un livello di resistenza, compro, rompe a ribasso il livello di supporto, vado short. Quindi sono due approcci come dire Don Camille e Peppone, uno opposto dell'altro, uno compra la debolezza, mean reverting, uno compra la forza, breakout. Da un punto di vista operativo è di vitale importanza per il trader capire se il sottostante, in questo caso l'oro che abbiamo di fronte per fare trading, ha un carattere piuttosto che un altro, perché sono due approcci diversi. Vi posso garantire che se un titolo appartiene a un carattere non appartiene all'altro, quindi se ottieni buoni risultati comprando la debolezza, difficilmente li ottieni acquistando la forza e viceversa. Quindi il primo passaggio è capire l'oro, semi reverting o breakout. Cosa si fa? Si creano due 3D system, due regole, due strategie operative, una che compra la debolezza e una che compra la forza. Dopodiché si prende il grafico dell'oro e si vanno a inserire queste due strategie, prima la strategia min reverting e poi la strategia di breakout. L'idea è quella di analizzarne i risultati, di analizzarne quindi l'equity line, quindi prendo la mia strategia, la vado a inserire e che cosa scopro? Scopro che la strategia min reverting, quella che prevede di acquistare la debolezza e vendere il rimbalzo, sull'oro avrebbe generato perdite. Questa è l'equity line, la linea dei profitti, vedete è negativa. Quindi comprare la debolezza dell'oro, adottare un approccio min reverting sull'oro non paga, perde soldi. Al contrario invece una strategia di breakout che compra la forza, quindi quando viene rotto a rialzo una resistenza, compro, quando viene rotto a ribasso un livello di supporto, vado short, ecco che in questo caso lavorando sulla forza, vedete, ottengo un equity line crescente. Quindi da un punto di vista operativo, se facciamo trading, utilizziamo un approccio breakout sull'oro, quindi la rottura di una resistenza, la rottura di un livello di volatilità, volatilità breakout si chiamano in cerco tecnico, sono strategie che sull'oro tendono a funzionare, anche e soprattutto se andiamo a inserire prima del breakout un filtro di compressione di volatilità, cioè ne andiamo a dire alla nostra strategia, se c'è un momento di volatilità bassa dell'oro e successivamente abbiamo un breakout e un livello di resistenza compra, cioè in pratica il fatto che prima del breakout rialzista della resistenza ci sia una fase di compressione della volatilità, di bassa volatilità, aumenta l'efficienza della strategia, quindi compressione di volatilità più breakout, ecco che sull'oro sono una strategia di trading intraday o di breve periodo efficiente che tende cioè a generare un equity line crescente. Poi abbiamo la stagionalità, le materie prime in particolare l'oro hanno una loro stagionalità spiccata, una stagionalità che può essere favorevole o sfavorevole, stagionalità favorevole vuol dire che all'interno di quella finestra temporale le quotazioni tenderanno a crescere, al contrario una finestra temporale sfavorevole vuol dire che all'interno di quella fase le quotazioni tenderanno a diminuire di prezzo. Ora la stagionalità non è scritta nella pietra, cioè non vuol dire che se c'è una finestra stagionale questa tutti gli anni caschi il mondo in quello spazio temporale le quotazioni dell'oro salgano, sarebbe troppo facile, però le statistiche ci dicono che effettivamente ci sono dei movimenti ricorsivi dove con una frequenza di verifica dell'evento molto elevata, parliamo di un 80-90% si verifica questa crescita o questa diminuzione dei prezzi dell'oro. Qui in sfondo trovate l'analisi della stagionalità, non è un grafico mio, l'ha fatto Moore Research che è un sito a pagamento che si occupa proprio di analizzare le statistiche della stagionalità e troviamo vedete tre linee, la linea rossa è la stagionalità dei cinque anni, negli ultimi cinque anni, la linea nera è la stagionalità degli ultimi trenta. Quello che noi dobbiamo andare a cercare è una finestra all'interno della quale tutte e tre queste linee hanno una tendenza o rialzista per la finestra temporale favorevole o ribassista per quella negativa. Oggi ci concentriamo sulla finestra temporale favorevole, cioè quella rialzista e vedete che qui sotto si legge che sono i giorni dell'anno, quindi primo gennaio 31-12. Notiamo, vedete che nell'ultima parte dell'anno siamo indicativamente a metà dicembre e per tutta la prima parte dell'anno, siamo fino a metà febbraio, vedete che tutte e tre le linee crescono, quindi questo grafico, questa parte qua, no, questa parte qua è la continuazione di questo, quindi questo è metà gennaio, metà dicembre, primo gennaio, riprende da qui, vedete primo dicembre, primo febbraio, metà febbraio, quindi è la stessa finestra. Abbiamo quindi le tre linee che crescono tutte insieme, soprattutto vedete in questa prima parte dell'anno. Poi abbiamo un'altra finestra temporale che è qui fondamentalmente in questo periodo in cui sto registrando il video, vedete che è una finestra temporale estiva, sempre favorevole sull'oro. Noi, per esempio di sintesi, oggi ci concentriamo sulla prima finestra stagionale che è quella che va da metà dicembre a metà febbraio. Non sto a inserire i giorni precisi perché le finestre temporali preferisco sempre adottarle con un minimo di giorni in più in acquisto e ampliare un attimo anche la finestra in uscita per essere un po' più ampio. però il dato di fatto è che se noi acquistassimo tutti gli anni l'oro a metà dicembre e lo mantenessimo in portafogli ininterrottamente fino a metà febbraio, noi otterremmo, vedete questa equity line, questo è il grafico degli ultimi 20 anni, cioè dal 2001 al 2022 dell'oro. Otterremmo quindi, vedete, un equity line crescente. Qui abbiamo i dati del futures, per cui sono dati, un contratto pesante, per cui sono dati molto elevati, però giusto per dare un'idea, no? Avremmo avuto un profit factor di 6, cioè per ogni dollaro messo nel piatto ne sono tornati indietro 6 monetine, un 71% di profittabilità, due sole operazioni consecutive negative e quindi insomma sono dati assolutamente interessanti. Ora vi ho presentato solo questa finestra temporale, ma volendo c'è anche quella estiva. Si possono usare ovviamente entrambe, quindi anche la stagionalità può essere utilizzata sull'oro e anche qui possiamo unire però due caratteristiche. Possiamo unire ad esempio il carattere breakout che abbiamo visto prima con la stagionalità, quindi non vado a comprare appena arriva il 15 dicembre, ma aspetto un breakout rialzista. Quindi il concetto è se sono all'interno della finestra stagionale positiva, quindi se è cominciato il periodo che va dal 15 dicembre in poi e abbiamo un livello di breakout, del livello di resistenza, quindi una rottura al rialzo della resistenza, allora vado a acquistare l'oro e lo mantengo o fino a che il trend di prezzi cresce oppure quando si chiude la finestra temporale. In questo modo unisco carattere del sottostante più stagionalità. L'ultimo aspetto, lato trading, poi abbiamo concluso, sono i bias. I bias sono dei movimenti ricorrenti che le quotazioni di un sottostante, in questo caso dell'oro, possono avere nel corso del tempo. E in questo grafico che cosa troviamo? Troviamo, vedete, qui sotto i giorni della settimana con le varie, tra l'altro, campionature degli orari della seduta e qui troviamo il movimento percentuale, cioè se il lunedì nelle varie fasce orarie le quotazioni tendono a crescere o tendono a diminuire, è sempre un'analisi ovviamente statistica. Una statistica ampia perché stiamo parlando, vedete, dal 2006 al 2022. Che cosa notiamo a livello di bias? Beh, possiamo notare ad esempio che il martedì, nella prima parte della seduta, le quotazioni tendono a crescere e poi a diminuire. Stessa cosa il mercoledì, vedete, le quotazioni nella prima fase di giornata tendono a crescere e poi a diminuire. Stessa cosa il giovedì, si tende a crescere e poi a diminuire. Questo è un primo esempio di bias, ma in realtà ce n'è uno ancora più macroscopico all'interno di questo grafico ed è quello che si verifica nella seconda parte del venerdì, dove le quotazioni, vedete, sono in forte crescita. Questo è un dato molto evidente anche a occhio, insomma, senza essere neofiti. Quindi c'è un bias sfacciatamente rialzista nella seconda parte della seduta di, come si chiama, di venerdì, insomma. E quindi noi che cosa potremmo fare? Beh, anche qui, se noi sappiamo che il venerdì è una giornata dalla seconda parte, quindi dalle, immaginiamo, da metà seduta, orario americano in poi, tende a essere crescente, noi che cosa possiamo fare? Beh, possiamo implementare una strategia che unisce il bias con il breakout, che è il carattere che abbiamo descritto prima. E quindi diciamo, se è venerdì e se abbiamo una rottura rialzista di un livello di resistenza da parte dell'oro, allora compriamo e andiamo a vendere il lunedì in apertura di seduta. Quindi manteniamo la posizione aperta, diciamo, per tutto il weekend fondamentalmente. Questa è una strategia estremamente semplice che però dà dei risultati assolutamente interessanti. Questa è l'applicazione della strategia, vedete, la stiamo lavorando sul grafico dell'oro, a 15 minuti, è venerdì, paf, c'è un breakout di un livello, la strategia compra e poi va a vendere quando il mercato riapre. Questa è l'equity line di questa strategia di trading che unisce l'anima breakout, carattere del sottostante, con il bias rialzista del venerdì. È un equity line, vedete, assolutamente interessante, assolutamente crescente. Qui trovate qualche dato, anche qui vedete che abbiamo dei risultati assolutamente interessanti in rapporto di rischio rendimento, un profitto di 2,31, una profittabilità del 60% e quindi insomma abbiamo dei dati assolutamente interessanti. Ok, oggi abbiamo, per oggi abbiamo fondamentalmente concluso. Spero di essere riuscito a illustrare quelle che sono le caratteristiche dell'oro, quelle che sono le caratteristiche dei principali strumenti, pregi e difetti di ciascuno degli strumenti per negoziare l'oro e soprattutto nell'ultima parte spero di avervi illustrato in modo corretto e abbastanza chiaro quelle che sono le, diciamo così, gli approcci operativi lato investing e lato trading che conviene lavorare, che conviene utilizzare per lavorare sull'oro. Il tempo è un po' tirano quindi non abbiamo tantissimo tempo per le domande però vi ricordo andate su Facebook, scrivete investire con le belle bellelli, trovate il mio gruppo, siete benvenuti, chiedete l'iscrizione, lì potete farmi tutte le domande che volete. Il video sarà online più tardi, lo troverete sul mio canale YouTube, anche qui andate su YouTube, cercate che belle bellelli mi trovate, potete rivedervi il video a vostro piacimento. Vi consiglio di registrarvi al canale YouTube in modo tale che a ogni nuovo video che io vado a caricare voi siete automaticamente aggiornati. Qui trovate gli altri miei contatti, bellelli.biz è il sito che pian piano stiamo aggiornando e mettendo online nuovo, a settembre sarà la nuova versione completa e trovate anche la mia mail g.bellelli e bellelli.biz, mi trovate anche tutti sui vari social. Il modo, dicevo però, più diretto per interagire con me oggi è il canale, il gruppo Facebook. Ok, grazie mille per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.